Ma guarda sto stronzo! È veramente uno stronzo! Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi mi vedete in una nuova location che in realtà non è nuova per me, visto che questa qui è casa mia a Roma, sono a Roma per la finale di Coppa Italia, per il finale di stagione in generale. Oggi appunto c'è Cagliari-Lazio, una partita fondamentale per la mia Lazio per non rischiare di rimanere fuori dall'Europa nella prossima stagione. E che cosa posso dire se non forza Lazio sempre per sempre? Io tra l'altro non so se è a fuoco perché da qui non ci vedo assolutamente nulla, però speriamo il Dio, speriamo il Dio. No! Che scambio tra Correa e Caicedo! Ma io ve l'ho detto ragazzi a Genova, ve l'ho detto a Genova, io amo la coppia offensiva Correa-Caicedo. Qui hanno fatto uno scambio bellissimo. Peccato per il controllo, peccato per il controllo leggermente lungo di Caicedo, cazzo. Maledizione! Non crossare e ti prego ma tiri! Non crossare e tiri! Dai su ragazzi! No, non mi direi che ha preso parolo. Ha preso parolo, cazzarola! Ragazzi, cazzarola! 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 Ma era gol! Era gol! Era gol! Era gol! Meraviglioso! Dai! Dai! Che cazzo però! Sì ma tu l'anno scorso non te li mangiavi questi gol figlio mio! Guarda dove cazzo hai tirato! Non te li mangiavi questi gol lo scorso anno! E' vero che Romagna si butta in scivolata e ti chiede un po' di specchio! Lì basta piazzarla, basta marcheggiare, basta piazzarla! Cristo santo! Questo ha fatto tre gol in campionato, ha fatto! Tre gol! Incredibile! Tira! Sì! E andiamo! Finalmente figlio mio! Cioè non se ne poteva più! Non se ne poteva più! Mi tiri in curva, mi tiri! Che cavolo! Mi tiri in curva, mi tiri! Un pochino mi incazzo! Scusa! Dai! Bello! Assis di Marusic! Incredibile! Incredibile! Palla meravigliosa di Marusic! Palla veramente meravigliosa di Marusic! Ma chi sta giocando molto bene è Badel! Gran partita di Badel! Bello! 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 Dai! Dai forza! Cerchiamo di chiuderla subito ragazzi! Non caliamo d'attenzione! Sì! Poi! E' una cazzata di Luis Felipe! Una cazzata di Luis Felipe! Però sempre in fase di impostazione! Sempre in fase di impostazione! L'unice contro Cacciatore! Pallone giocato al limite! Luis Salvetto! Attenzione al movimento di parolo! C'è proprio Badel! Uh! Vabbè questo c'ha un culo! Questo c'ha una sfiga incredibile! Questo c'ha una sfiga incredibile! Ha preso un'altra traversa da 25 metri! Vabbè ragazzi c'è... Ha preso un'altra traversa da 25 metri questo qui! E noi abbiamo preso un altro legno! Vabbè ma ormai non... È inutile! Guarda che culo qua! Guarda guarda! Io ho veramente... È incredibile! Quando non gioca immobile i pali li prendiamo comunque! Li prendiamo comunque! In un modo o nell'altro la palla... È certo che sbatterà sul palo! È sicuro! Al 100%! Ragazzi! Scommettete! Scommettete sul legno della Lazio in finale di Coppa Italia! Ci potreste fare i soldi! Ci potreste fare i soldi ragazzi! Io vi ho avvertiti! Io vi ho avvertiti! Ah! Piace sta maglietta? ... ... ... ... ... ... Sì! Sì! E andiamo così! Andiamo! Goal e assist di Luis! Daie così! Bello! Sinistro all'angolino! Daie! Daie! Gran gol! Sì questo lo brava anche Marusic! Incredibile! Ma è incredibile partita di Marusic! Eh ma questo è un bel gol! Questo è un bel gol! Questo è un bel gol! Davvero! Wow! Wow! Proto! Haha! No vabbè! Che parata! Che parata! Eh qui ha sbagliato Radu! Ciao! Ciao Radu! Fatte i sogni! Fatte! Guarda che cazzo fa Radu! Parata pazzesca! Parata pazzesca! Parola! Spacca la porta! Spaccala! Cazzo! Spacca la porta! È uscita di un... Di poca uscita! No vabbè! No vabbè! Ok ma questo è fortissimo! Questo è fortissimo! Io... No vabbè! No vabbè! Assis di Castro! Gol di Pavoletti! No vabbè! Guarda questo! Guarda questo che gol che ha fatto! Staccato! Oddio! Questo non va bene per niente! Non va bene per niente! Ma guarda sto stronzo! È veramente uno stronzo! Guarda che stronzo cacciatore! Affanculo! Uomo di merda! Veramente un uomo di merda! Veramente un uomo di merda! Sto stronzo! Veramente un uomo di merda! Da quando ha fatto le manette contro la Juventus! Veramente un uomo di merda! Sì ma non li accetto da un uomo piccolo come questo! Mamma mia veramente! Io... Io il calcio non lo reggo! Io il calcio... Io mi... Mi... Mi dovrei dare al kayak! Veramente! Perché non... Alcune... Alcune cose veramente non le reggo! Veramente non le reggo! Vabbè! Ringraziamo il Dio! Mettete un like se il video vi è piaciuto! Iscrivetevi al canale se mi volete bene! Se... Se mi volete bene! Fate tutto quello che può farmi del bene! Ecco su questa piattaforma! Noi ci vediamo successivamente! Ciao ragazzi! Forza Lazio! Ciao ragazzi!